Ciao a tutti ragazzi, allora sarebbe potuta finire in mille modi la partita di ieri, saremmo potuto andare in vantaggio noi subito, avremmo potuto sbagliare i gol come abbiamo sbagliato e loro avrebbero potuto punirci alla prima occasione, come il salto sul tempo di Oland su Acerbi per esempio, piuttosto che un'altra occasione in cui Bernardo Silva ha lisciato la palla, un'altra situazione in cui Oland ha sfiorato il palo, piuttosto che i nostri contropiedi buttati, Carlos Augusto, piuttosto che il drop di Darmian su il salvataggio dal corner di Ederson che aveva favorito proprio l'esterno e invogliato l'esterno a calciare, a centrare addirittura la porta, ci sarebbe voluto infatti Guardiola salvare sulla linea, poi nel secondo altre situazioni di contropiede che abbiamo letteralmente buttato via con Darmian sempre, perché invece di calciare ha deciso di servire di tacco un barella che non si aspettava assolutamente di essere servito in quella situazione lì, piuttosto un altro bellissimo contropiede orchestrato a un tocco, concluso con Mkhitaryan che sulla pressione di Lewis ha calciato alto, piuttosto avremmo addirittura rischiato di perdere la partita dopo averla giocata meglio dal 75esimo in poi, quando il sito ha cominciato a palleggiarci, noi ci siamo difesi troppo bassi e loro hanno avuto con Foden prima e poi addirittura nel recupero un paio di volte con Gudon, con la possibilità addirittura di due facce alla fine, cioè è stata una partita bellissima, giocata da due squadre che hanno finalmente entrambe voluto provare a vincere la gara. Quando io due anni fa ho sottolineato, prendendomi per nacchie, la grandissima occasione che avevamo avuto e che non avevamo sfruttato a pieno, cioè aspettare il settantesimo prima di provare a giocare a calcio contro questi qua, era questo che intendevo. Il Manchester City va affrontato e basta. Bisogna cercare di provare a giocare la gara con le proprie caratteristiche, utilizzando il proprio credo, il proprio concetto di calcio, utilizzando le proprie qualità, ovviamente bisogna essere fortunati perché loro possono farti gol in qualsiasi momento, attraverso una trama, attraverso una giocata di un singolo, un calcio da fermo, insomma sono una squadra straordinaria, sono una squadra che ha vinto due anni fa la Champions League ed è campione del mondo in carica, quindi questo ce lo dobbiamo ricordare. Ma il processo di crescita vero di una squadra che vuole giocare queste partite sempre passa attraverso la volontà di giocare veramente le partite dal primo minuto in questa maniera qua. L'Inter nell'ultimo periodo storico, quando ha cominciato a costruire la squadra che ci stiamo godendo, in questo periodo diciamo, Biennio di Conte e Triennio di Simone Inzaghi, ha giocato a memoria partite come quella di ieri sera, tre, quattro, cinque forse, mi ricordo 60 minuti ad Ortman prima di farci rimontare dell'ingresso di Achimi, ancora quando il marocchino giocava con i tedeschi, Barcellona quando abbiamo perso 2-1 dopo che l'arbitro ci ha negato un rigore nettissimo su Sensi, partita che poi abbiamo perso in rimonta con la doppiata di Suarez, quando l'Uruguaggio giocava ancora in Maglia Braugrana, il 3-3 di Barcellona che non è stato possibile farlo diventare in 3-4 per la Dabbenangeli di Aslani che invece di scaricare in mezzo ha provato a calciare su Ter Stegen nel finale, partita mostruosa giocata a livello tecnico-tattico dalla squadra di Inzaghi e basta? Troppo poco, troppo poco perché tra Conte e Simone Inzaghi non abbiamo mai trovato il vero coraggio, la vera volontà, il vero piglio, la vera coscienza di provare a giocare a calcio senza troppo rispetto anche di squadre come il Manchester City di Guardiola. Bisogna provare a giocare a calcio, ti può andare bene, ti può andare male. Ieri c'è andata discretamente bene, ripeto, potevi perderla ma potevi anche vincere, potevi portartela subito a casa attraverso un primo tempo suntuoso perché a livello tecnico-tattico abbiamo giocato meglio di loro che ci avevano affrontato in maniera molto presuntuosa perché addirittura Guardiola aveva evitato di giocare con i terzini. Ha giocato con i tre dietro, ha stretto Lewis a fare il mediano destro, ha giocato con Savini a tutta fascia pensando di impenserire Carlos Augusto che invece se l'è letteralmente mangiato vivo costringendo Guardiola a sostituire il brasiliano e così come Darmianna, che per carità è Darmianna, poi ha commesso quell'errore perché non è fatto per quelle zone di campo lì a un certo tipo di livello ma ha mantenuto quel mezzo giocatore di Grealish bassissimo non permettendogli il minimo indispensabile. Insomma abbiamo disinnescato tutte le fonti di gioco con grandissima applicazione, con metodo, con grande voglia, con volontà di raddoppio sistematico e soprattutto con il piglio della grande squadra che sa quello che deve fare, sa come innescarsi nel momento giusto, con i giusti termini e con i giusti tempi. Bisogna giocare a calcio, bisogna provare sempre a far vedere quello che si vale, poi le partite le si possono perdere, ripeto, ma si rischia anche di vincere a volte le partite come ieri sera. Quando noi giochiamo la partita di due anni fa contro il Manchester City e ci si viene a dire beh ce la siamo giocata, non è che bisogna essere contenti ce la siamo giocata. Cosa significa ce la siamo giocata? Ieri abbiamo provato a giocarla veramente e abbiamo rischiato di vincerla. Ieri abbiamo rischiato di vincerla. Due anni fa abbiamo dimostrato che potevamo non perderla e portarla a supplementare. Perché non provare dal inizio con i migliori a giocare a calcio sempre attraverso le nostre qualità? Poi singoli straordinari. Mi è strapiaciuto a Cerbi per esempio che quando ha un punto di riferimento da marcare e quando è sicuro che i propri braccetti sono sul pezzo, sono centrati, sono assolutamente in partita, riesce a ottimizzarsi. Anche ieri ha fatto una grande una grande gara. Anche se un paio di concessioni ad Holland si possono dare, ci mancherebbe un paio di sbadataggini, un paio di situazioni in cui ha concesso il salto come nel primo tempo piuttosto che un paio di situazioni in cui si è girato. Ci sono dei margini che bisogna concedere comunque a un certo tipo di giocatore e va bene così ma ha fatto una grande partita così come l'ha fatta Bastoni che nel momento in cui non c'è stato a Cerbi, non c'è stata la chiusura di Bissec è stato puntualissimo in un paio di chiusure extra large, una nel primo tempo e una nel secondo sempre sul norvegese. Straordinario Carlos Augusto che ha dimostrato dopo qualche situazione di rischio concesso al timing di Savigno di poter tranquillamente non fare rimpiangere di Marco, per carità concederà sicuramente qualcosa sulla balistica, sul cross ma per esempio quando c'è da andare a correre, quando c'è da andare a inserirsi nello spazio in maniera feroce come ha dimostrato alla fine del primo tempo proprio per nello scadere, quando è impegnato Ederson il brasiliano sappiamo benissimo che non si fa pregare e l'approccio di Zelinsky mi ha sorpreso perché dopo la partita di Monza ero molto scettico quando ho visto la formazione di partenza e non pensavo che potesse il polacco impattare in una partita così dove si necessitava sostanza, oltre che palleggio e dinamicità anche sostanza e anche volontà di giocare verticale, invece il polacco ha fatto una partita super. Mi è sembrato il lo Zilinsky dell'anno dello scudetto del Napoli se non addirittura degli anni precedenti, quel centrocampista totale che necessita il nostro centrocampo per far rifiattare l'Armeno. C'era un nuovo straordinario, un salvataggio alla fine del primo tempo dopo un errore di impostazione uscita dal basso di Sommer intercettato dagli inglesi e è un intervento difensivo monstra di un giocatore che ormai è diventato assolutamente completo, cioè fa fase di possesso orizzontale, fa fase verticale, fa fase difensiva, sa far rifiattare, sa far palleggiare, prova la verticalizzazione quando è giusto, con i tempi giusti, è diventato un giocatore completamente diverso da quello che era quando è venuto qua, quindi veramente non lo si può contestare se non per quanto riguarda la continuità a un certo tipo di livelli, ma non è quella colpa sua se prima giocava nell'Hamburgo, se prima giocava nel Milan di Montella, eccetera eccetera, che non gli permetteva di fare questo tipo di partite qua. Adesso noi glielo permettiamo, sta crescendo con noi, sta dimostrando di poterci tranquillamente stare. Staremo incredibile perché è incredibile? Non perché abbia fatto niente di straordinario, ma perché noi necessitavamo da anni di un giocatore che ci permetteva di fare rifiatare il nostro migliore giocatore. Taremi non è eccezionale, non sarà Van Basten, non sarà Romai, non sarà Ronaldo, ma è un giocatore che queste partite le sa giocare, perché è abituato a giocarle. Soprattutto è incredibilmente umile e applicato. Ieri ha fatto tre, quattro cose da punta da Champions League. Raccordo, rientro, un paio di assist in ripartenza, quella da Armiane è un assist mostruoso, di un giocatore che vede calcio, che vede il compagno e che si mette in funzione di far giocare bene la squadra, perché è un giocatore intelligente. Magari non chiuderà in doppia cifra, magari sarà sicuramente rimbalzato tra i difensori arcigni della nostra Serie A, perché non è abituato, perché ha giocato solo nel campionato portoghese, perché ho sentito anche queste cazzate. È possibile tutto, ma fino adesso mi sta assolutamente piacendo, perché è il giocatore che ci serve. È un giocatore utile, soprattutto abituato a fare determinate partite ed è consapevole del ruolo che ha. Turam Male, forse spaventato da quello che sarebbe potuto essere, ma che invece non è stato, perché la difesa del City gli ha concesso tanto. Troppo timido in un paio di situazioni, troppo frettoloso in un paio di conclusioni, qualche buon movimento, un paio di situazioni di strappi che potevano costringere il difensore del City al fallo e che non ha provato per troppo rispetto, probabilmente dell'avversario. Mi è piaciuto un filo di più Lautaro Martinez quando è entrato, ma neanche troppo. Si vede che è indietro, si vede veramente indietro tanto e quando lui non si sente in grado a livello atletico di fare le cose che gli piace fare, è un giocatore un filo diverso. È indubbio che punta meno la porta, è un attimino più timido anche lui. Però mi è piaciuto un filo di più. Abbiamo buttato letteralmente via tre, quattro occasioni limpide, tre, quattro ripartenze a un tocco straordinario col nostro stile, insomma, nel primo tempo. Nel secondo tempo, dal 65esimo in poi, diciamo, mi pare dal 68esimo, 70esimo quando sono subentrati, quando abbiamo fatto i due cambi, i primi due cambi abbiamo concesso un attimino più palleggio orizzontale che abbiamo un po' sofferto, quello sì. Disse che qualche cosa buona, qualche altra meno, ha costretto Cialanoglu a fare un paio di rincorsi all'indietro necessarie perché si è perso l'uomo, perché si è fatto girare da dietro, però comunque partita interessante del tedesco. Ottimo Sommer, quando ci doveva essere c'è stato, bravissimo a capire che Foden avrebbe chiuso con il destro dal dischetto, nell'occasione in cui loro hanno palleggiato al limite in maniera molto sapiente, molto paziente, hanno trovato il buco e lì ci potevano far male, lui è stato molto bravo, così come è stato centrato e posizionato perfettamente sul coppo di testa centrale, meno male per noi al novantesimo di Gundogan su quella scodellata di Grealish. Poi, ripeto, siamo stati anche fortunati perché anche il diagonale, quello un pochettino strozzato alla fine del primo tempo di Holland, su quell'uscita palla sbagliata di bastoni si poteva costarcare, per carità, gli devi concedere quei tre palloni al limite perché loro ti vengono a pressare in maniera feroce, ma è così che devi giocare queste partite qua, devi avere coraggio di dimostrare quello che sei, quello che vali, con personalità. Quando ho visto la formazione di partenza, devo essere sincero, soprattutto dopo aver visto l'Inter a Monza, ero molto scettico perché pensavo che l'Inter non potesse, dopo aver performato come ha performato a Monza, cioè con troppa superficie e con anche un filo troppo di presunzione, pensavo che si abbassasse tanto, troppo. Infatti i primi minuti non mi erano piaciuti, poi ci siamo messi a posto, ci siamo allargati, abbiamo provato a spingere con le mezze ali, c'era un oglo provato a verticalizzare veloce, Barella con un paio di colpi di tacco in uscita ha permesso due tre di partenza e che ci hanno dato coraggio. Insomma, abbiamo attraverso le nostre giocate singole, la nostra qualità, provato a giocare il nostro calcio, ne siamo venuti fuori e sull'onda emotiva abbiamo costruito la nostra grande partita, perché il nostro futuro è costruito soprattutto sul messaggio che trasmettiamo ai nostri avversari in casa e all'estero. Il City ora già aveva timore di referenziare dell'Inter a Istanbul, aveva paura dell'Inter, noi gli abbiamo concesso 70 minuti di palleggio liscio, pulito, perché avevamo troppo timore di una squadra che aveva più timore loro di noi, ok? E lì ci siamo giocati la partita della vita, lo stesso Simone Inzaghi penso che l'abbia capito che la partita della vita l'ha buttata via perché l'ha gestita col pannolone a Istanbul due anni fa. Se avessimo provato a giocarla come abbiamo giocato ieri, chissà come sarebbe andata la storia, probabilmente anche il pedigree di Simone Inzaghi, l'autostima, l'ego e tutto quello che ne sarebbe conseguito della carriera di Simone Inzaghi, chissà cosa sarebbe cambiato. Per carità, non c'è la controprova, ci mancherebbe altro, ma quando io sottolineo che è la mentalità che fa la differenza e soprattutto spaventa l'avversario che andrai a incontrare e gli avversari che hai nel tuo campionato di riferimento. Noi ora siamo più rispettati a livello internazionale per una semplice partita, perché abbiamo dimostrato che le partite così 90 minuti contro questo tipo di avversario qua le possiamo finalmente giocare. Ora ci vuole però la gara con l'Arsenal giocare così, andare a Leverkusen e giocare così, che sono due avversari diversi, che ti permettono magari un filo di più l'Arsenal, un filo di meno Leverkusen che in casa palleggia in maniera molto simile alla squadra di Guardiola, ma dobbiamo ripetere questo tipo di partite qua contro altre squadre di livello europeo, perché poi la nostra credibilità e il nostro processo di crescita passa attraverso questo tipo di partite. Approcciate così? Sì, ci sono anche le situazioni da sottolineare che ti permettono di poterle fare queste gare, perché se probabilmente non si fosse fatto quel turnover di sicuramente forzato a Monza per mantenere determinate risorse per ieri, probabilmente non si sarebbe potuto fare la partita così intensa, così tenace, così grintosa e così applicata. Vero, quindi ci vuole una rosa di un certo tipo, ed ecco che ritorna il concetto vecchio, cioè riempirsi la rosa di giocatori capaci a fare queste gare qua. Zelinski, con tutti i limiti di Napoli, è un giocatore che però con la Polonia ha fatto campionati europei, campionati del mondo. Taremi ha fatto la Coppa d'Asia, Taremi ha fatto la Champions League, Taremi ha lottato per le competizioni internazionali e per il vertice in Portogallo. Pavard è un giocatore che mastica queste partite e le risputa fuori. Noi dobbiamo riempirci la rosa di giocatori che sanno fare queste partite e che quando subentrano sanno approcciarsi bene e non non ti fanno notare che ti manca qualcuno. Ieri abbiamo giocato una super gara giocando 70 minuti senza il nostro miglior giocatore di riferimento che è Lautaro Martinez. Non se ne è accorto nessuno perché abbiamo approcciato da grande squadra. Abbiamo dei difetti strutturali, di mentalità, singoli, perché non può giocare una partita di questo livello qua con un 36enne a far la fascia. Questa poi è una considerazione che la si può sottoscrivere a Simone Inzaghi, il perché, il per come, nonostante Danfres avesse impattato comunque molto bene a Monza, magari non sta bene nerolandese, io questo non lo so. Ci sono delle situazioni che vanno migliorate, ma è questa la strada da perseguire, perché è così che si giocano queste gare. Ora abbiamo visto la partita del Milan, abbiamo visto la partita della Juve, abbiamo visto il Napoli che ha preso, ha preso consapevolezza, Conte è questo qui, Conte quando riesce a partire bene e quando soprattutto agli uomini di cui si fida, aperta parentesi Lukaku, chiusa parentesi, è molto pericoloso soprattutto senza le coppe, attenzione, ma noi ieri abbiamo dato un segnale straordinario. Ora bisognerà capire, possiamo continuare? Abbiamo la Rosa in grado di poter fare la doppia corsa? Non lo so. Continuo a pensare che non abbiamo ancora abbastanza elementi per arrivare lunghi anche in Champions League. Anche la capacità, la volontà, la capacità e l'organizzazione di riuscire a scegliere la partita giusta per dare i segnali forti alle nostre competitor è sinonimo di grande squadra e soprattutto è un qualche cosa che deve capire il nostro tecnico. Lui ha capito che la partita da indicizzare era Manchester, ci ha centrato, ha fatto bene. Ora però il segnale forte va dato col Milan. Il Milan bisogna fargli un culo così adesso, dimostrare di essere sempre superiore, che la partita di Manchester non è un caso, che la squadra di Milano è l'Inter, che noi sappiamo giocare queste partite con continuità attraverso un turnover mirato, ok? E che le partite di Genova e Monza sono una conseguenza di un training che va fatto, perché le partite ora si gioca ogni tre giorni, gli intoppi ci possono essere, ma che attraverso il gioco e la mentalità si può nonostante tutto, nonostante i limiti strutturali, le deficienze tecniche e concettuali, si può andare avanti in un progetto con grande difficoltà, ma attraverso il credo e la mentalità, il concetto di calcio. Speriamo che questo sia veramente l'inizio di un qualche cosa di diverso, di una... sì, è possibile, perché no? Anche Inzaghi può migliorare, lo ha fatto attraverso la nostra panchina, perché quando è arrivato da noi non era questo Simone Inzaghi, questo bisogna dargli atto. Abbiamo perso un campionato probabilmente anche a causa della sua inesperienza, probabilmente lo stesso campionato Simone Inzaghi quest'anno non lo perderebbe, perché ha fatto, perché ha capito, perché è migliorato, perché si è centrato, perché ha... perché si è reso conto dell'ambiente in cui è e delle potenzialità del gruppo a cui lui ha dato sicuramente qualche cosa in confronto a quello che magari c'era già prima, però adesso ogni anno bisogna crescere, bisogna dimostrarsi migliori, bisogna dimostrarsi capaci e bisogna dimostrarsi in grado di capire che cosa serve ogni anno per crescere, per diventare sempre migliori, attraverso difficoltà, attraverso impedimenti economici, strutturali, di mercato, infortuni, squalifiche, cali di forma, eccetera, eccetera, e ricambi generazionali, però i processi di crescita passano attraverso tutte queste difficoltà. Se saremo in grado di ovviare a questo, potremo anche quest'anno, dire la nostra, e giocarci soprattutto il campionato contro una grande Juventus, ragazzi, questi non prendono praticamente mai gol, abbiamo visto anche contro il PSV, che non è sicuramente il Manchester City, ma è una squadra che comunque è voluta, che fa sempre le coppe, ci sono dovuti 20 minuti, la Juve l'ha risolta, anche a Empoli probabilmente avrebbe meritato tranquillamente se non ci fosse stato il portiere di portarla a casa, quindi la classifica sarebbe un filo più diversa in questo momento. Abbiamo visto il Milan, abbiamo visto il Napoli, in Serie A probabilmente se giochiamo le partite con gli elementi giusti siamo ancora i più forti, ma dobbiamo dimostrarlo. Il percorso appena iniziato, vediamo, comunque il messaggio di ieri è sicuramente un gran bel messaggio. Grazie a tutti, forse ci vediamo nel pomeriggio con Davide, facciamo forse un wanted, adesso provo a sentirlo, vediamo un po'. Grazie a tutti, buon proseguimento e ci vediamo più tanti. Ciao ciao.